Come rappresentare e descrivere dati relativi alla variazione nel tempo dell'immigrazione in Italia, o della disoccupazione, o dell'inflazione? In questa lezione imparerai a leggere e rappresentare con tabelle grafici dati relativi a grandezze che variano nel tempo. Questo grafico mostra i valori nel tempo del tasso di disoccupazione, vale a dire il rapporto in termini percentuali fra il numero di persone in cerca di lavoro e la forza lavoro, cioè il numero di persone che sono occupate o in cerca di occupazione. Si tratta di una serie storica, cioè di una sequenza di dati che descrivono il valore di una grandezza nel tempo. Come si può notare, il tasso di disoccupazione dal febbraio 2012 al febbraio 2013 è mediamente aumentato, passando dal valore minimo del febbraio 2012, poco meno del 10,2%, a poco più dell'11,4% nel febbraio 2013 e raggiungendo un picco massimo nel gennaio 2013. Per rappresentare una serie storica si utilizzano, in genere, tabelle o grafici cartesiani. Hai già incontrato nella tua esperienza non solo scolastica, sia tabelle sia grafici cartesiani. In ogni caso, in questa e nella prossima lezione avrai occasione di ripassare come si producono, si leggono e si utilizzano. Per esempio, in questa tabella tratta dall'Istat sono riportati i dati dell'inflazione, che misura l'aumento percentuale medio dei prezzi in un dato periodo. Nella prima riga della tabella compare il periodo di riferimento, per esempio marzo 2011-marzo 2012. La seconda riga riporta il valore dell'inflazione in ciascun periodo. Per esempio, questo dato indica che nel periodo dal marzo 2011 al marzo 2012 i prezzi sono aumentati mediamente del 3,3%. Questo è un esempio di rappresentazione tabulare, ma le serie storiche, come abbiamo visto, vengono spesso rappresentate con grafici cartesiani, come per esempio il grafico già considerato che riporta il tasso di disoccupazione in funzione del tempo. Sull'asse delle ascisse sono state riportate le unità di tempo e sull'asse delle ordinate i corrispondenti valori della grandezza in esame, in questo caso il tasso di disoccupazione. Ogni punto del piano è una coppia ordinata di numeri. Per esempio, questo punto indica che a settembre 2012 il tasso di disoccupazione era circa dell'11%, il che vuol dire che su 100 persone occupate o in cerca di lavoro circa 11 erano disoccupate. Nel grafico si è scelto di unire i punti con segmenti per dare un'idea più suggestiva dell'evoluzione del fenomeno, anche se i dati sono stati rilevati solo mese per mese e quindi i punti del segmento che unisce due mesi successivi non rappresentano dati reali. Per prepararti alla lezione, prova ad affrontare il problema di apertura dal titolo andamento del prezzo di un'azione e prova inoltre a risolvere gli esercizi 1 e 2. Buon lavoro!